Il litorale si lascia alle spalle un altro fine settimana funestato dal maltempo. Nei pressi del pontile di Ostia una violenta amareggiata ha spazzato via la statua di Nettuno, posizionata da un onimo artista proprio a protezione della costa. Come testimoniano le immagini di alcuni cittadini, nell'installazione è rimasto soltanto il perno che la teneva in piedi. Massima allerta all'idroscalo, polizia locale e protezione civile hanno consentito l'accesso al quartiere soltanto ai residenti a causa dei pesanti allagamenti delle strade. La comunità Foce del Tevere torna a chiedere trasparenza al decimo municipio. Da settimane sarebbe pronto un piano di sgombero per le famiglie del villaggio che però non viene ufficialmente confermato. Il consigliere capitolino Davide Bordoni intanto sollecita misure urgenti per arrestare l'erosione che sta danneggiando le strutture balneari. Il comitato Ostia Antica Saline ha monitorato il territorio per tutta la durata dell'allerta meteo desolante lo scenario al mattino dopo 12 ore di pioggia incessante, strade allagate e canali quasi a livello di guardia. Le pompe di sollevamento del Consorzio di Bonifica hanno lavorato a pieno regime scongiurando esondazioni. Situazione difficile a Fiumicino dove sette persone sono state evacuate dalle loro abitazioni e alloggiate in albergo. Il lungomare di Fregiane Sud è finito completamente sott'acqua mentre la violenza delle onde si è abbattuta nuovamente sugli stabilimenti la nave, il tirreno e la perla provocando altri danni. Preallerta è per la piena del fiume Arrone che fortunatamente si è mantenuto su un livello di circa due metri e mezzo, tombini saltati e allagamenti stradali anche a Focene.